Sono in compagnia del Presidente della Prologo di Colliano, Mauro Iannarella. Mauro, dal 10 al 12 ottobre qua a Colliano si svolge la 18esima edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo. Un weekend ricco di appuntamenti, eventi, convegni e soprattutto tanta cucina. Esatto, hai detto bene. Quindi il 10 ottobre prende il via la 18esima edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti tipici locali. Un evento ricco di tante attività, dal Palio del Tartufo all'esposizione e alla vendita di prodotti enogastronomici, all'artigianato, convegni. Insomma abbiamo previsto spettacoli di musica popolare, abbiamo previsto un bel po' di attività. Ecco, state vedendo la fase con la quale il cane sta cercando il tartufo. Daniele Gugliuccello, proprietario della ditta Sapori di Bosco. Daniele, cosa sta facendo in questo momento il cane? Allora, abbiamo cercato un tartufo, abbiamo trovato un tartufo, il tartufo nero di Colliano. Quali sono le caratteristiche peculiari di questo tartufo? La caratteristica principale del tartufo nero di Colliano qui è il suo odore, è molto profumato, un odore molto intenso, è molto apprezzato perché è bello abbinarlo con diversi tipi di piatti perché non si riesce a coprire l'odore del tartufo, è un odore molto intenso e piacevole. E poi ha un odore molto intenso, quasi sul nero scuro, marrone, quasi mogano nero scuro. Quali sono le peculiarità, le particolarità del terreno qui a Colliano? Le caratteristiche del terreno è un terreno molto scuro, un terreno friabile e a me mi piace pensare che il tartufo racchiude proprio gli odori di questa montagna. Una montagna molto bella, ci sono alberi maestosi, al di sopra tutti dei mille metri, animali selvatici. Quando andiamo a mangiare il tartufo nero di Colliano secondo me sentiamo proprio tutte le caratteristiche di questa montagna che è una montagna molto bella. È una montagna suggestiva e così anche il tartufo quando mangiamo. Una volta cercato il tartufo bisogna seguire tutta una fase particolare per l'estrazione da terra, anche con appositi attrezzi. Sì, infatti il cane individua dove è il tartufo e poi si deve stare attento a non rovinare i capillari, le radici delle piante. Difatti si utilizza un vanghello che appunda e bisogna scavare quando meno possibile. Una volta scavato e estratto il tartufo dal terreno bisogna richiudere la buca in modo che non si rovinano l'habitat ideale di questo tartufo che è proprio l'habitat ideale sotto le foglie dove si sviluppa il micel. Daniele, come abbiamo visto i tuoi cani sono addestrati. Quanto tempo ci vuole e come avviene l'addestramento? Per estrarre un cane ci vuole molto tempo, quasi più di un anno per portare un cane a trovare il tartufo per bene come si deve. Difatti cominciamo sin da quando sono molto piccoli e facciamo sì che per loro deve essere come un gioco. Prima li impariamo a riportare il tartufo, poi a trovarlo sotto il terreno, però ci vuole molto lavoro quasi tutti i giorni. Quanti cani hai nella tua azienda? Personalmente 5-6, poi siamo diversi in famiglia, abbiamo diversi cani con più di una cinquantina. Daniele, tu sei uno dei tanti tartufari di Colliano, esperto in materia. Ecco, ci spieghi, ora hai un tartufo che è un tartufo rosso diverso da quello nero classico di Colliano. Ci spieghi quanti tipi di tartufo esistono e quali sono commerciabili? Allora, noi abbiamo appena trovato un tartufo rosso che non è commerciabile in Italia. Difatti ci sono 9 specie di tartufi commerciabili, 7 di nero, uno tra queste che è quello di Colliano e 2 di bianco. E poi ci sono altri svariati tipi che non si possono rivendere al pubblico, di tutto perché si trovano in piccole quantità, quindi non ci sarebbe neanche un commercio, però non ha valore la polpa di questo tartufo. Non è neanche tanto buono, però è commestibile lo stesso, si potrebbe anche mangiare. Siamo nel tuo piccolo regno nel laboratorio e negozio di vendita di tartufi. Da tartufaio a trasformatore a vendita al dettaglio. Sì, di fatto i tartufi che noi abbiamo appena trovato in montagna, arriviamo qui in azienda, parte li selezioniamo e parte di questi tartufi vengono riservati alla vendita al pubblico, ai ristoranti, parte di questi tartufi e altri vengono lavorati, facciamo questi prodotti al tartufo, creme di tartufi, carpaccio al tartufo e prodotti del Stato Bosco con tartufo. Parliamo dei costi, il tartufo è un prodotto d'elite, da quanto parte il costo e fino a quanto arrivano? Allora, il tartufo non c'è sempre un prezzo preciso, di fatto ogni settimana si decide il prezzo del tartufo e viene deciso in base alla quantità che se ne trova. Ci sono alcuni periodi dell'anno che se ne trovano pochi, costano molto, quando se ne trovano un po' in più perché la stagione è andata buona, il pezzo abbassa quindi è più accessibile un po' a tutti quanti. Fino a quanto arriva il massimo del costo, a costare un tartufo? Sono diversi tipi di tartufi, il tartufo bianco qualche annetto fa è arrivato quasi a 5.000 euro, il nero invece è qualcosa di meno, quando se ne trova pochissimo massimo raggiunge 200-300 euro al chilogrammo, però in genere il prezzo del tartufo nero varia intorno a 200 euro al chilogrammo. Dottoressa, possiamo definire Colliano come la città del tartufo? Ma guardi, Colliano la città del tartufo è un po' poco a dire il vero, è vero che il tartufo è un prodotto importante del nostro territorio, il tartufo nero, ed è un prodotto pregiato, qualcosa che arricchisce la nostra tavola, i nostri piatti, però attorno al tartufo chiaramente gira anche tutto il resto, anche un po' l'economia diciamo legata a questo prodotto, quindi il buon gusto e poi anche l'economia legata come dicevo a questo prodotto. Quest'anno appunto è la diciottesima mi pare, diciottesima edizione della mostra Mercato del tartufo che si terrà venerdì sabato e domenica qui a Colliano, migliaia di visitatori, ma che noi ci auguriamo che non vengano solo in questa occasione, in questa ricorrenza, ma che abbiano modo di ritornare durante l'anno anche per altri motivi. Bah, Colliano io direi anche la città del benessere, perché nei pressi di Colliano, quindi bagni di Colliano e contursi, ci sono anche le terme, ci sono 3-4 stazioni termali e inoltre poi abbiamo ancora dei prodotti genuini, anche altri prodotti legati al tartufo, quindi anche le nostre patate sono buonissime, fagioli, tanti altri prodotti che ancora diciamo arricchiscono di genuinità, come dicevo, la nostra tavola. E oltre a questo quindi c'è anche, aggiungiamoci l'ospitalità del nostro popolo, l'ospitalità perché noi siamo un popolo che io ritengo, sono orgogliosa ecco, di guidare un popolo che ancora oggi possiamo definire civile, un popolo che appunto sicuramente deve accogliere, io dico che l'accoglienza, l'ospitalità è un dovere, perché se restiamo da soli il paese non cresce, ecco, non c'è crescita, quindi aspettiamo tanti visitatori, aspettiamo tanti turisti, abbiamo tante strutture ricettive per accoglierli, perché di fatti finalmente quest'anno abbiamo concluso una bellissima opera, il Tartufo Hotel, appunto per questo l'abbiamo intitolato Tartufo Hotel, è un hotel bellissimo che abbiamo completato a Collianella, una frazione più in alto di Colliano proprio paese qui, e oltre a questo ci sono tante altre attrattive, insomma, quindi non mi dilungo oltre perché spero che verrete direttamente qui a trovarci a Colliano e vi accoglieremo veramente con un grazie e tanta serenità.